Fino adesso noi speriamo di poter fare la messa di mezzanotte come sempre. Speriamo che questo momento di apertura sia per tutti un momento di grazia, cioè di ritrovarci insieme e di poter riconoscerci come fratelli e sorelle, perché la sofferenza più grande è non dialogare, non incontrarci, non essere capaci di scambiarci quello che è il bene più grande, cioè le relazioni tra di noi che dicono anche una crescita di una società che vuole andare avanti e può andare avanti solo attraverso un impegno di tutti. Da soli non ce la facciamo più. L'ho detto in altre occasioni, ma vorrei che per il Natale ci facessimo un regalo tutti, cioè andiamo tutti a vaccinarci, perché così faremo il bene per noi, per la nostra famiglia, ma anche per coloro che incontreremo. E allora sarà un Natale vero. Gesù è venuto per salvarci. Non possiamo noi rimanere indifferenti di fronte a questa realtà. E quindi l'augurio è che tutti possiamo essere capaci, non di gridare, ma di pensare, di parlare, di dialogare e forse di fidarci di più della scienza, che spendono una vita per arrivare a certe conclusioni e noi magari con la nostra idea la buttiamo via. Ecco, essere più riflessivi e più responsabili. Il Natale ci richiama a questo.